Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo per bambini e ragazzi a partire da 11 anni di età. Una storia di ribellione e amicizia tra i banchi di scuola. La trama del libro La Pagella, dello scrittore Andrew Clements, pubblicato dalla casa editrice Rizzoli, è la seguente. Nora ha 11 anni e sa di essere un genio, ma fa in modo di avere brutti voti. L'ultima cosa che vorrebbe essere guardata come una rarità e perdere l'amicizia di Steven. Meglio fingere di essere un'alunna mediocre e ribellarsi alla tirannia dei voti. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie e iscriviti al canale.